Salve a tutti, rieccoci qui per continuare il commento e l'analisi della Sinkfield Cup Big Match. Ieri sera ci siamo divertiti dopo tutta una serie di pate, soprattutto nei primi tre round. Forse Anish Giri ha contagiato tutti, ma sembra che ci sia una via di guarigione, visto che sono emersi le prime vittorie e di conseguenza le prime sconfitte, ma il Big Match, qui sotto i riflettori, ha l'Ireza Firuja che deve lottare per conquistarsi e per prendersi un posto nel torneo dei candidati che si giocherà ad aprile, contro colui che invece ha già prenotato uno degli otto posti, ovvero Fabiano Caruana, grazie ai successi nella Fide World Cup che si è giocata ad agosto. Let's go! E4, best by test, E5, partita di re, gioco aperto, cavallo F3, cavallo C6, qui arriva alfiere in C4 per entrare magari in un'italiana con alfiere C5, D3, gioco piano, tutte le varie linee, alt, sembra dire Caruana, mentre sviluppa l'alfiere, il cavallo in F6, come ho già detto io sono peggio di Luca Giurato, e Firuja qui gioca l'aggressiva cavallo G5, cavallo G5 è la linea che noi conosciamo come il fegatello, attacco, combinando due pezzi leggeri sul punto F7, la teoria raccomanda D5 in modo da bloccare subito, creare interferenza in questa diagonale, è per D5, tutto abbastanza di routine, non mi soffermo perché sono cose che sappiamo in automatico, cavallo A5 che va a bloccare, a contestare il controllo di questa diagonale all'alfiere, quindi scacco, C6, cambio, cambio, alfiere qui che rientra in D3. L'altra variante è quella che prevede alfiere in E2, poi ce ne sono altre anche da parte del nero, come il gambetto Hullo e Stadma, quello vi rimando alla teoria, alfiere in D3 crea e la mossa più giocata crea comunque dei problemi di natura strategica al bianco, ossia l'impossibilità, o comunque in maniera molto più lenta, di sviluppare l'alfiere camposcuro in questa diagonale, quindi quella più naturale. Di conseguenza Caruana accoglie l'occasione per centralizzare il cavallo in D5, attaccare con la propria regina il cavallo avversario e Firuja, tra cavallo F3, un po' più passiva, rientrare subito in difesa, opta per H4, molto più vigorosa, più energica, H6, qui giocata da Caruana per levarsi di torno questo fastidioso equino avversario che si ritrova che è l'unico pezzo veramente aggressivo, donna H5. Ecco che Firuja qua invece vuole già coordinare i pezzi, in questo caso va addirittura a minacciare il matto con cavallo e donna in F7, basandosi sul tema tattico del pedone in H6 che è inchiodato, altrimenti la torre è kaput, donna F6 che prepara tutta una serie di minacce velenose su tutte, cavallo F4 minacciando di guadagnare un pezzo. Cavallo F4 va assolutamente prevista, quindi profilarsi, va attaccare la donna, e di conseguenza la donna qui deve abbandonare il controllo della Colonna H, cessa di esistere l'inchiodatura del pedone, quindi seminarci a ribadagnare il cavallo in G5. Ecco cavallo E4, sottrae subito un pezzo, va a controllare anche la casa G5, e quando visto la partita questa mi è sembrata molto buona per eventuali tatticismi come alfiere donna, coordinarli contro F2, puntare su varie debolezze, attacca la donna che si sposta in E6, e qui arriva B3. Per risolvere il problema legato allo sviluppo dell'alfiere camposcuro, Filuja vuole subito sistemarlo in B2, quindi fianchetto, controllare la grande diagonale che è anche l'obiettivo di Caruana, cogliere l'occasione con G6, noi sappiamo che concludere e andare avanti nello sviluppo è importante, tanto quanto rallentare ostacolare quell'avversario, G6 è la mossa più forte perché va a attaccare la donna, qui F5, scelgo proprio di sbizzarrirsi prima di giocare subito, non subito alfiere in G7, ma F5, attacco un altro pezzo, anche a costo di prendermi dei rischi, magari di essere colto in contropiede decidendo poi di arroccare corto, e ora e non prima alfiere in G7. Alfiere in B2 anche da parte di Filuja, arrocco corto, se devo prendere in prestito un termine nel gergo calcistico difesa alta da parte di Caruana per quanto riguarda i pedoni, il bianco però deve creare subito il materiale per attaccare, quindi raggruppare i pezzi, combinarli, poi andare a localizzare delle debolezze, qui per esempio sulle diagonali, una diagonale che è stata indebolita, dipende sempre da quelli che sono i rischi che uno può prendersi in base alle possibilità e allo stile dell'avversario. Qui Filuja per concludere lo sviluppo dei pezzi, sul lato di donna gioca cavallo in A3, allo scopo di ipercontrollare anche la casa C4, arroccare lungo, qui arriva sempre E4, questa è una mossa molto forte da parte del nero, nella sua semplicità, perché va ad aprire totalmente la diagonale alfiere camposcuro, e adesso il suo valore, il suo valore intrinseco va ad aumentare nel corso del medio gioco, attacca l'alfiere e di fatto ormai lui può dominare sui colori. Ne consegue infatti alfiere in C4, si poteva magari anche giocare alfiere a 6, che non l'ho valutata attentamente, ma alfiere in C4, Filuja quindi rinuncia alla coppa degli alfieri. Presa presa, dona per C4, è difficile per il bianco invece martellare sulla debolezza avversaria, come il pedone isolato in C6, che è difeso ma non comporta grossi problemi, infatti qui Caruana tranquillamente, in maniera proprio buddista, gioca Thorin B8, concludo il mio sviluppo, cerco di essere più aggressivo, di ottenere un vantaggio di spazio, qui va a controllare più case nella meta avversaria, il bianco si deve accontentare di una sterile casa G5, sempre parlando della metà campo avversaria, Thorin B8 è l'inizio di una manovra che Filuja decide di lasciare quasi sfogare il suo avversario, anche perché non ha delle conseguenze nefaste dal punto di vista tattico, io arrocco lungo comunque e gli concedo Thorin B4. Thorin B4 è una mossa, visto che noi parliamo di partite, per fortuna direi, tra esseri umani, anche se top gemme, esseri umani, è una di quelle mosse che vanno a creare dei problemi, una torre che nel medio gioco viene subito resa attiva, attacca la donna e costringe il bianco a una totale passività che andrà ad aumentare mossa dopo mossa, e anche il campo dei pezzi non è così semplice. Però sulla spinta in A5, Caruana ne approfitta per chiamare in causa tutti i pezzi, pedoni, attaccanti vari per distruggere l'arrocco che tra i due re, apparentemente quello più al sicuro è il re bianco in C1, visto quell'avversario per via di questa, chiamiamola, difesa alta con i pedoni, la linea che è stata notevolmente indebolita dalle spinte, in realtà è ben rifornita di difensori, poi non che la direi possa finirsi facilmente attaccabile, ma con A5 Caruana vuole subito mettere più benzina sul fuoco. Torre H in E1, spinta in A4, del resto siamo in una partita come tante altre con gli arrocchi eterogenei, il bianco però non ha nessun pezzo che supera la propria terza traversa, quindi uno svantaggio enorme dal punto di vista dello spazio, l'iniziativa appartiene al nero, viene costretto quindi a mosse come G3, qua mi sono chiesto, magari qualcuno potrà valutarla anche nei commenti, cavallo per D5, cosa poteva succedere? Cavallo per, anche perché sono contrario all'uso dei motori, quindi cavallo per D5, preferisco ragionare di testa mia, poteva cambiare i pezzi, non lo so, poi vedremo adesso come si è conclusa la partita perché Caruana sta attaccando, vincere è tutto un altro discorso. G3, figura si deve quindi accontentare, cambio, cambio, donna in D6 e qui F3, le uniche azioni che può svolgere in una totale assenza di spazio, qui anche i pedoni che bloccano ogni ipotetico sogno della donna in E2 che rimane a casa passivamente, tristemente a guardare lo sviluppo dei pezzi avversari, rimane F3, l'unica reazione, anche a costo di sacrificare in questo caso il pedone in G3. Caruana invece vuole giocare proprio per iniziativa, quindi non accettare un pedone che avrebbe comportato poi torri in G1 cercando di localizzare altre debolezze e il bianco poteva trovare facilmente uno spiraglio. Donna in G5 invece, cercare di incrementare la pressione contro il punto C3, allora cavallo A in B1, ragomitolato in difesa, torri in E8, presa, presa e qui alfieri in A3. Tutto ben organizzato da parte di Caruana che sceglie proprio di badare all'efficacia dei pezzi, al vantaggio della Coppa degli Alfieri, tanto da sacrificare la qualità. Nelle posizioni che io gioco abitualmente la qualità vale un pedone, disse Tiran Petrosian, uno dei più grandi esperti del sacrificio di qualità, tutti che si interrogavano sul compenso. Donna in A5, sacrificio che viene subito accettato, il nero come compenso mantiene un cavallo molto attivo, Fiuja ancora gode di una maggiore compattezza per quanto riguarda la Rocco, i due cavalli che sono ottimi dal punto di vista difensivo, anche se per quanto riguarda lo sviluppo delle torri è evidente che la posizione alla fine è pari, qui il nero alla Coppa degli Alfieri come compenso per la qualità, il bianco ha un pedone di vantaggio ma le torri che difficilmente potranno trovare uno sbocco. Ecco che invece Fiuja prosegue in maniera ambiziosa con lo sviluppo d4, io devo subito valorizzare, avere una qualità in più, ma Caruana blocca tutto con e3, andando a sigillare le colonne per le torri, re in b2, una mossa un po' particolare, tutto allo scopo di rimettere in gioco il cavallo, qui infatti e3 va anche a controllare in maniera molto ferrea, pressante la casa d2 e quindi il cavallo dovrà per poter tornare attivo sulla scacchiera proseguire questa manovra, quindi essere parcheggiato in a3, magari in c4 e creare qualche problema. H5, Caruana ben soddisfatto della sua posizione, decide di spingere quasi con un soffio i pedoni, cavalli in a3, si poteva anche provare con uno scacco, ma adesso non stiamo a sviscerare tutto, alfiere in g4, tutto qui deve avere un prezzo, il bianco cerca di attivare subito i pezzi, tra l'altro donna in c4 con scacco, si poteva anche evitare in questo caso il sacrificio di qualità, meglio di restituire in questo caso la qualità, ovvero la torre in d1, re in h7, giocando anche una torre a1, magari un po' più velenosa per qualche attacco di scoperta, anche se il nero ha già maturato un certo vantaggio, Filuja prosegue invece con donna f7, cercando subito di far scattolire un controgioco, vediamo quanto sarà l'energico, attacca la torre che si si posta in f8, due pezzi in presa ormai di fatto donna f7 e un sacrificio o restituzione, scegliete voi, della qualità. Donna in e7, alfiere per, torre per d1, dal punto di vista materiale il bianco ha un pedone di vantaggio, poi vantaggia vantaggiosa non è certamente la posizione. Torre in f2, quindi la torre subito a proda in seconda traversa, attenzione sempre ai tatticismi, qui su c2 ci sono due pezzi che attaccano il cavallo come unico difensore, lui sceglie cavallo e4 e c'è una mossa poi molto forte che è stata commentata ieri notte, ossia cavallo in c4. Cavallo in c4 potevi anche guadagnare il pezzo, ovvero il cavallo in b4, perché attacchi la donna, controlli tutte queste case con i cavalli e le risultava molto più difficile. Peccato, spiazze. Invece Fiduja sceglie di centralizzare il cavallo in e4 in modo da coordinare già due pezzi, donna e cavallo, anche per saltare eventualmente in g5, si espone ancora di più all'attacco avversario che martellante qui Caruana, prende in c2, re in b1, torre che in seconda rientra per magari poi fare ancora retromarci in f8, cavallo in g5 con scacco, re nell'angolo senza problemi, torre in e8 con scacco, qui si poteva valutare anche donna per e3 la cattura del pedone ma senza poi raccogliere un vantaggio significativo, scacco, torre in f8, donna per g6, come osi minacciare qui il matto addirittura in h7, scacco. E qui di fatto Caruana cambia le donne, può anche stappare lo champagne, presa a presa, ogni reazione avversaria è stata spezzata e bloccata in tempo, torre per f5, torre in e1, non ho più frecce al mio arco, sembra dire filucia, provo a attaccare il pedone ma arriva alfiere per d4, quindi anche qualche bella linea più interessante dal punto di vista tattico, alfiere per d4, viene spezzata ogni risorsa da parte del bianco, con tutti i pezzi che vanno a controllare anche casa in seconda traversa, il re che risulta quasi confinato, allora a cavallo in c2 siamo ormai agli sgoccioli e qui è arrivata alfiere in c3. Vado ad attaccare la torre avversaria sacrificando quindi il pedone passato un e3, questa invece è una mossa molto forte da parte di Caruana, anche perché su torre per scatava sempre una linea molto tagliente, ossia torre f1 con scacco, il re paralizzato non può andare in seconda, l'unica è cavallo e1 perdendo un pezzo, dovendo poi perdere materiale, ma questa sarà comunque la sorte di filucia che gioca invece cavallo per e3, si disfa del pedone passato, attacca la torre e una partita del genere, come poteva chiudersi se non con un bel sacrificio di qualità, ancora un altro, è stato illuminato dal grande Tigran Petrosian la roccia, torre per g5, di fatto guadagna un pezzo, filucia abbandona su h per g5, si riprendeva facilmente alfiere per vincendo il finale qui anche per un neonato e quindi è abbandonato dopo questa elegante torre per g5, Caruana come sempre che riesce quando è in partita non ce n'è per nessuno, forse Cars è l'unico che può sempre mettere i bastoni fra le ruote, non lo so, ditemi la vostra nei commenti, per oggi è tutto, il video verrà inserito nell'apposita cartella, sono presenti tutte le altre playlist contenute aggiuntive a soli 1,99 euro al mese, ringrazio tutti per la partecipazione, un caro saluto e a domani.